Un'eccezionale scoperta ad opera di due giornalisti, Franco Mariani e Mattia Lattanzi, autore del libro Firenze 1966, l'alluvione, edizioni giunti, ha portato alla luce una verità per i più sconosciuta. La prima vittima dell'alluvione di Firenze del 1966 era retina, per l'esattezza un cittadino del comune di Castel San Nicolò, Mario Maggi, morto alle prime ore di quel tragico 4 novembre mentre si trovava per lavoro in via Bolognese. Le ricerche sono partite 5 anni fa quando Lina Maggi, la figlia di Mario, si era rivolta all'associazione Firenze Promuove che da vent'anni cura le cerimonie annuali dell'alluvione di Firenze e al suo presidente Franco Mariani per chiedere aiuto per sapere come fosse morto il padre. Aveva 44 anni, racconta Lina, lavorava con un'impresa idile a Pratolino. Lui e un suo collega dovevano rientrare in Casentino la sera del 3, ma vista l'impetuosità delle piogge rimandarono il rientro. Non so molto di come siano andate le cose perché mia madre, con quattro figli piccoli, senza telefono, senza patente e a 70 chilometri di distanza, ha saputo solo quello che le hanno raccontato. Il babbo di Lina venne ritrovato nell'obitorio di San Giovanni di Dio, in zona Borgogni Santi, tra i morti senza nome e ancora completamente ricoperto di fango. Le ricerche dei giornalisti Mariani Lattanzi hanno portato a scoprire che sul posto intervenne una pattuglia della polizia municipale con tre vigili, di cui uno solo ancora in vita, che intervenne anche la misericordia di Firenze e che il suo corpo cadde nel fiume Mugnone. La procura apri un fascicolo, a oggi misteriosamente sparito, e di fatto Mario Maggi è in assoluto la prima vittima dell'alluvione. Tuttavia il suo nome non compare nell'elenco ufficiale che venne steso dalla prefettura. Alla luce di queste nuove notizie, l'amministrazione del comune di Castel San Nicolò ha deciso di tenere lunedì prossimo alle 12 presso il cemitero monumentale di strada in Casentino una cerimonia ufficiale sulla tomba di Mario Maggi, invitando tutti i cittadini.